Tutto pronto? Si apro le gabbie. Partiti cavalli della quarta corsa del pomeriggio. Parte subito in vantaggio Vendicari nei confronti di Black Paradise, il peso più basso in terza posizione troviamo invece Amore Incantato che lascia in quarta The Falling Man e poi in quinta posizione a chiudere Gold Crystal. Con passo deciso Vendicari è la battistrada naturale della competizione, Black Paradise ai suoi fianchi con la giuba verde rimane in seconda, invece in terza all'interno c'è Amore Incantato che segue proprio le mosse della Front Runner. In quarta invece troviamo il favorito The Falling Man che lascia in quinta posizione con la giuba arancio e blu, vale a dire Gold Crystal. Cavalli che sono a metà curva, ritmo che non ha visto incrementare la sua cadenza da parte di Vendicari con all'esterno subito Black Paradise, di dentro Amore Incantato, poi The Falling Man toccato con la frusta sulla spalla e ancora Gold Crystal che batte corsia interna. Siamo addirittura ad arrivo con Vendicari ancora in vantaggio, The Falling Man che si avvicina ad ampie folate, di dentro ci va Gold Crystal, gli altri che in questo momento hanno perso un po' l'abbrivio. Paletto dei 400 con Vendicari ancora davanti, The Falling Man che si getta all'inseguimento, Gold Crystal che in questa fase è rimasto un filino sul passo ma se la giocano questi tre con gli ultimi 200 metri da percorre. The Falling Man che prova a progredire ulteriormente, va all'attacco di Vendicari che si prova a difendersi con The Falling Man che passa e chiude la partita rispetto a Vendicari che ha venduto carissima la pelle al terzo Gold Crystal. Vince da favorito The Falling Man, Dario Vargi in sella, training di Luigi Di Dio, colori sono quelli della scuderia dell'avvocato, vince numero uno nei confronti di Vendicari che ci ha provato fino in fondo, dovuta soccombere nella fase finale ma strena in resistenza la sua. Terzo Gold Crystal, quindi 1-2-3, l'ordine d'arrivo ufficioso numerico probabile, seconda affermazione in carriera per il figlio di Elkabeir, quota e leggera salita 2-80, come detto Dario Vargi on board, è tutto. Grazie a tutti. Grazie.